Allora cosa stiamo visitando? Il parco di Bolzano, le abitazioni dei pipistrelli. Poi guarda, i pipistrelli abitano al numero 271, un po' mi sbagliò. E da quanto tempo studiate l'abitazione dei pipistrelli? Pareggio, pareggio, da ieri. Ma lei è ingressato un po'? No, tutto regolato. E i pantaloni? Pantaloni taglia 52, gambe 54. E la pancia? La pancia non c'è, guarda. Il profilo migliore? La pancia è pianta. Il profilo migliore? La mia pancia è pianta, guarda. Oh! Un po' più le loro! Continuiamo? Ma come vi siete conosciuti? Come vi siete conosciuti? A mangiare un gelato. Cosa ne pensa? No bobo! Cosa ne pensa? Cosa? 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 Cosa?